salve sono alberto dionisi l'autore di questo libro amori nello specchio della pandilette e molti mi chiedono quando sentono le cose che ho scritto e che scrivo quanti amori ho vissuto o quanti ne vivo nella maniera più assoluta posso dire che sicuramente qualcuno ce n'è ma ci sono anche molti amori ascoltati diciamo che ho sentito gli amori degli altri che mi hanno suggerito quello che scrivo nella scrittura cerco di non essere banale le mie metafore cerco di crearle nuove è bello quando mi dicono questa non l'avevo mai sentita vuol dire che il mio sforzo è stato premiato ecco questo è un aspetto di quello che scrivo